Carissimi amici, un augurio di una buona giornata. Siamo ormai verso la fine del mese di luglio, siamo in piena estate. E allora è bello ogni tanto camminare, camminare su questa strada che ci porta verso Sella Sant'Agnese. Qui vedete meglio in questo cartello Gemona del Friuli, Sella Sant'Agnese. Ecco una strada come vedete che si introduce proprio nel bosco, una strada sterrata e è bello camminare in questa giornata particolarmente mite. Si cammina proprio in mezzo il bosco su questa strada, come vedete. Non è una strada difficile, è una strada abbastanza percorribile che ci porta a Sella Sant'Agnese. E siamo ogni tanto accompagnati da qualche segno di fede popolare, di fede religiosa. Troviamo questo crocifisso e queste pietre che sono state messe proprio per salire con semplicità e fare una preghiera davanti al crocifisso. E qui ci fermiamo per un istante a contemplare qualche fiore di campo, in particolare per sentire il profumo di questi splendidi ciclamini. E quello squarcio di pianura che vedete è proprio la frazione di Braulings con il tagliamento e il lungo ponte di Braulings e poi la zona vicina con parte di Gemona e poi sulla destra si arriva a Venzone. Da qui si vede ancora meglio la zona pianeggiante, Braulings con la zona del tagliamento e poi Osopo con il forte di Osopo e le montagne. E qui il cammino è un po' più faticoso perché è un po' ripido, ci sono tante pietre. Questo è un sentiero comunque, una specie di scorciatoia. E siamo giunti ormai proprio a Sella Sant'Agnese ed eccoci in un luogo quindi molto bello a cui i gemonesi sono molto affezionati anche perché non è lontano dalla città e si arriva in questo spazio veramente splendido circondato da grandi montagne. Ed ecco allora una breve panoramica per vedere questi prati, questo spazio che serve anche per i giochi dei bambini in qualche circostanza dell'anno come nel giorno dell'ascensione del Signore e poi queste alte montagne. Stiamo arrivando, passando in mezzo a questi fiori splendidi umili bianchi stiamo arrivando appunto verso la chiesetta vedete là in fondo dedicata alla martire Sant'Agnese ed ecco finalmente arrivati alla meta desiderata proprio qui nella chiesa accanto alla chiesa di Sant'Agnese ci sono dei lavori in corso stanno restaurando un antico monastero un antico monastero che era proprio un rudere abbandonato ora lo stanno rivitalizzando vediamo che cosa ne uscirà ed ecco forse potrebbe essere uno splendido agriturismo per accogliere i visitatori oppure anche un luogo di raccoglimento di preghiera ecco si conclude qui il nostro breve video una piccola panoramica che comprende sia le montagne le piante e poi il rudere che stanno restaurando e poi la chiesa di Sant'Agnese ebbene da questa zona sella Sant'Agnese Gimono del Friuli un caro saluto a tutti voi buona giornata mandi